Spettacoli musicali e tipicità locali della Valle Ufida, un programma di eventi per il Natale ricco di novità, quello presentato a Grotta Minarda. Ci aspettiamo che in questo centro, in questo corso anche rinnovato e con le bellissime luminarie che abbiamo quest'anno, le persone della Valle dell'Ufida e non solo vengano a Grotta Minarda per essere accolti in una cittadina che è rinomata, per essere un centro di aggregazione e comunque in una posizione centrale nella Valle dell'Ufida. A questo noi ovviamente la nostra accoglienza sarà fatta attraverso quelle che sono le nostre eccellenze, la musica con la corale della Chiesa di Santa Maria Maggiore e il coro della Chiesa del nostro Santuario della Madonna di Carpignano in due luoghi ovviamente bellissimi, ricchi di storia e di fede, quali sono la nostra Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore e il Santuario della Madonna di Carpignano. A questo ovviamente si collegherà tutto l'aspetto enogastronomico perché saranno presenti nei vari eventi degli stand gastronomici che metteranno in luce quelle che sono le eccellenze di questo territorio. Evento Clou, il concerto di Natale a cura della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore. Il 22 dicembre ci sarà il nostro rituale concerto di Natale della Corale Polifonica Santa Maria Maggiore diretta dal soprano maestro Sabrina Caprarella. Eseguiremo i brani della tradizione natalizia, sia della nostra cultura italiana che di quella anglosassone, per passare poi a brani gospel e un omaggio ai maestri compositori delle colonne sonore dei film. Per noi è un evento molto importante ma lo è anche per la cittadina di Grotta Minarda che attende questo momento di convivialità e di preparazione al Natale.